Buongiorno Angela, Dio te benedica. Buongiorno anche a te. Parliamo della verità oggi? Sì. Allora, bisogna sempre dare la verità a tutti? Certo. Tutti, tutti? Sempre, sempre? Sì, perché è uno dei dieci comandamenti, non mentire, certo. Ho capito. E allora Giuda fece tutto bene? Giuda? Sì, fece tutto bene, però non fece bene che tradì Gesù, quello no. E perché no? Perché non è bene tradire nessuno. Ma scusa, ha dato la verità, ha dato i farisei che cercavano Gesù, dice cercate Gesù, altro che siamo pronti a pagare, a peso di argento, sono pronti 30 denari. Dice guarda velo, io adesso vi dirò la verità. No, 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 non fece bene. Ha detto la verità alle persone sbagliate. E diede la verità, diede la verità da dove Gesù stava. Molta gente ci critica a noi, perché non mettete il vostro indirizzo con le foto e tutto su internet, come faccio io? Perché a te il diavolo non è preoccupato di te e non ti perseguita. Invece Gesù lo perseguitava, un pochino anche noi, e Gesù andava a nascondersi. Ma solo il criminale si nasconde. Allora, Gesù è un criminale che si nascondeva. Allora, Giuda dice la verità ai farisei. Quindi bisogna dire la verità sempre a tutti, 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 tutti. Sembra di no. Alla fine credo di no. Attenzione che c'è un soldato che dà la verità al nemico. Non è un veritiero, è un traditore. Invece dalla medaglia di oro gli daranno qualcosa di piombo, la fucilazione. Guarda, noi vediamo in 1 Samuel 22, cosa vediamo? Cosa? Senza neanche legge, fratelli se lo studieranno con calma, io ho i minuti contati qua. Vediamo che Davide va dal re di Moab, che sarebbe la Giordania di oggi, e chiede rifugio per se stesso e per la sua famiglia, perché l'autorità, la legge, il re di Israele e Zaul, cercava di ucciderli. E allora questo va dal nemico, da Moab, va bene, e chiede rifugio. E Moab gli va da rifugiato politico. E così salva la vita della sua famiglia. E poi anche lui... Primo Samuel al 22. Sì, capitolo 22. Quindi questo è un esempio che Davide non va a costituirsi. Signor Saúl, ho sentito che mi vuole uccidere, altro che. E guarda, io sono... ho letto la Bibbia, il Vangelo, devo dire la verità. Ecco, guarda, io abito qui, venite a ucciderci. Saúl gli dice, d'accordo, io ti faccio subito contento. Adesur è andato dal tempio, ha ucciso 85 sacerdoti, perché cercava Davide. E allora, questo è Primo Samuel al 22. Un altro esempio è Primo Samuel al capitolo 27. Davide fa lo stesso, si va a rifugiare dai Filistei. Fa anche finta di combattere le guerre dei Filistei contro Israele. Infatti, secondo me, ha anche tirato troppo la corda. Che ripaga il prezzo, che mentre lui era lì esagerando con le sue finte, che ha esagerato, hanno fatto un raid, in italiano una razzia. Hanno razziaato il suo campo, hanno preso tutte le sue donne, le loro donne, i figli, tutte le portate via, tutti. E poi, comunque, leggete lì, leggete il capitolo, così è Primo Samuel 29, 30. Allora, non è che non possiamo... Guarda, c'è una storia, diciamo, abbiamo una storia stamattina, vero? Sì. Primo Samuel 21, 13, cosa dice? Il primo Samuel 21, 13, dice che Davide faceva il pazzo in mezzo a loro. Anche se non era pazzo. Non era pazzo, si fingeva pazzo. Allora, Primo Samuel 21, 13, grazie Signore. Mi legge la storia, è una bella storia. Sì. Quando era ancora un semplice prete, il cardinale cecoslovacco Troccia era stato preso prigioniero dai nazisti. Nel corso di una esecuzione di massa, rimase soltanto ferito, finse di essere morto e fu portato via con i cadaveri. In questo modo riuscì a fuggire, ingannando i nazisti. Ma una morte simulata è un inganno. Un imbroglione. Era prete. Un mentitore. Secondo i moralisti, egli avrebbe dovuto ubbidire alle autorità che avevano deciso di uccidere degli innocenti. Avrebbe dovuto gridare, Non sono ancora morto. Per piacere, un'altra pallottola, prego. Ogni giusta regola diviene ridicola se spinta all'estremo. Certo, abbiamo il dovere di dire la verità. Ma abbiamo anche il dovere di difenderci dagli assassini. Dobbiamo difendere la nostra famiglia, la nostra chiesa, la nostra nazione. La suprema regola cristiana non è l'amore, né la severità, né la verità, né la saggezza. Cioè non è sempre. Normalmente sì, però a volte ci sono eccezioni. E neppure la ricerca dei piaceri o l'ascentismo. Né la generosità, né l'economia, né il sacrificio di sé, né la difesa personale. E come diceva San Antonio il Grande, è avere in ogni cosa la giusta misura. La nostra coscienza, illuminata dallo Spirito Santo, mentre studiamo la Sacra Scrittura, ci indicherà in ogni circostanza la via giusta. Amen. Gloria a Dio, una bella storia. Storia di martiri, di cristiani perseguitati, dai nemici. Grazie, Signore. Guarda, posate la scrittura, Matteo 1,19. Dammi questa bella scrittura. Matteo 1,19. Stiamo cercando di dimostrare qui che dobbiamo sempre dire la verità a Dio, ai fratelli, alla Chiesa, ma non al diavolo, non ai nemici di Dio. Ai nemici di Dio, Gesù gli parlava in parabola, così che vedendo non vedevano, ascoltando non capissero. La verità non è per tutti. La verità di Dio la nasconde in parabola affinché i nemici della verità, il diavolo e i suoi, non la usino contro Dio, contro i suoi figli. Cioè anche la verità devi usarla con discernimento. Devi usarla con discernimento. Infatti, facendo domande a Gesù, è giusto pagare la tassia o no? Era una trappola, non era una domanda. E allora Gesù dice, ma prima che risponda a voi, rispondete a me. Dice, ma noi non abbiamo queste... il battesimo di Giovanni, era giusto o sbagliare, dice, ma noi non lo sappiamo. Ah, non lo sapete? Furbastri. E io devo rispondere alle vostre domande? Dice, io non vi rispondo. E poi invece ha raccontato un'altra parabola. Quindi Gesù nascondeva la verità sotto parabole perché i figli del diavolo non la usino contro di noi, contro Dio. Matteo 1, 19. Giuseppe, suo marito, era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia. A Maria. Maria perché scopre che la sua fidanzata è incinta e caspita. Ui, non si è mai sentito che arriva lo Spirito Santo e mette la gente incinta. Calma, calma. Questa è storia. E si è andata in qualche discoteca. Maria, la moglie di Giuseppe, dove è andata questa qua? Scusa, eh. E lui dice, sai cosa faccio? Rompo il fidanzamento, finisce la scrittura. Si propose di lasciarla segretamente. Così la vuole lasciare segretamente. Era giusto o sbagliato? È sbagliato. Sbagliato. Così era giusto. Cos'è la legge? E di lapidarla? Deve di lapidarla. Perché era adultera? Perché, scusa, bisogna lapidarla. La legge diceva. E lui cosa fa? La Bibbia dice, siccome era giusto, l'avrebbe mandata via segretamente perché non voleva che venisse lapidata. Era un uomo giusto. È vero? Quindi la Bibbia è d'accordo con questo? Quindi, cioè capite, c'è la legge di Dio, la legge di Mosè, la legge, la legge. Però c'è qualcosa di più altro della legge, l'amore. La giustizia di Dio non è in parallelo con la legge di Mosè, la legge della Bibbia. Ma è in parallelo con l'amore di Dio. Anche il Vangelo, qualunque fariseo di chiesa userà il Vangelo come fariseo usava la legge di Mosè. Quante volte siamo andati in chiesa e non hanno avuto ad ascoltare le scritture? Poi mi hanno tappato la bocca completamente. No. E hanno predicato cose che non erano scritturali. Va bene? Quindi si può usare anche il Vangelo. Il Vangelo è come che soglia, un attrezzo, uno strumento. Tu puoi usare un coltello per tagliare il pane o per uccidere qualcuno. Puoi usare il Vangelo per far del male, per deprimere. Ci sono messaggi nel Vangelo che sono orribili, orribili, terribili. notizie che nessuno vuole ascoltare, la zizzana che viene bruciata. Puoi usare questo accusando tua moglie o tuo marito che è zizzana e che brucerà l'inferno. Il diavolo può usare il Vangelo in questo modo. Il Vangelo è pieno di notizie le più belle mai esistite e le più brutte. Dipende come guidiamo. E allora Giuseppe era un uomo giusto perché non metteva in pratica la legge. E non è finita. Guarda, vai anche a Luca 6. Va bene? I primi cinque versi per cortesia. Luca 6. Tempo sfuggi di cui dobbiamo fuggire anche noi. Verso 1. Dall'1 al 5. Avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i campi di grano. I suoi discepoli strappavano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano il grano. E alcuni farisei gli dissero Perché fate ciò che non è lecito di sabato? E Gesù rispose loro Non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui benché non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti? E diceva loro Il figlio dell'uomo è signore del sabato. Luca 6.1-5 Infatti era contro la legge la legge che era il re Saúl diceva, proclamava come fanno oggi i media tacciava Davide che era un criminale bisognava arrestarlo arrestarlo e arrestarlo e poi così come oggi i media decidono chi è un criminale e chi non lo è e se ne attenti viene l'anticristo e deciderà lui cosa è giusto o sbagliato l'anticristo metterà le leggi come c'è il suo amico della pace a mamma lì che benedirà benedirà tutto quello che li deciderà come lui benedice tutti i politici di oggi basta che ha un'autorità lui gli bacia i piedi e invece non è così nella Bibbia infatti siccome il sacerdote gli diede il pane quando arrivò Saúl a controllare la situazione e si arrabbiò così tanto che gli diede aveva rifoccellato Davide che ha ucciso 85 sacerdoti nello stesso giorno va bene quindi cosa vediamo qua vediamo che Gesù benedice Davide che rompe la legge wow e non poteva mangiare il pane di presentazione ero solo sacerdote ma sacerdote sapendo chi era Davide aveva ucciso Golia eccetera aveva capito che era questo l'uomo di Dio si può fare un'eccezione gli diede anche la spada di Golia e Gesù stesso qui rompe la legge perché nel giorno di sabato faceva ciò che non era lecito Gesù stesso sì i farisei di chiese chiese cristiane che ce ne sono diversi cioè loro adorano la legge le virgole della legge ma però inghioiano il cammello che non guardano l'amore di Dio l'amore è superiore alla legge è superiore al sabato perché il sabato il sabato è una persona è Gesù il sabato Gesù è il sabato il giorno di riposo è quello che rappresenta Gesù il tempo con il Signore però il sabato è fatto per l'uomo per noi affinché adoriamo il Signore e allora vediamo qui io potrei andare avanti potremmo trovare un sacco di altri esempi ci sono tanti sì le spie di Gerico che vanno lì Rahab di Gerico che dice all'autorità qui non ci sono bugia inseguiteli riprenderemo di sicuro bugia era lì nascosti a casa sua la sua casa sua era un bordello va bene questi capito? abbiamo uno studio molto dettagliato su questo con tanti esempi della Bibbia però alla fine qual è il punto? che la Bibbia ti insegna a mentire? no il punto è non non fatevi condannare del diavolo perché ingannate il diavolo con le parabole o magari dite a Toma invece di Roma magari dite una cosa che suona corretta però intendete un'altra cioè ingannare il diavolo è gente di male Gesù lo faceva sempre non fatevi condannare dai farisei perché voi non seguite tutti a puntino è il sabato e il pane di presentazione e dovete dire sempre la verità al Signore ai fratelli alla Chiesa ma non al diavolo il diavolo dovete fare come Gesù che lo prendeva in giro in continuazione dovete fare come i profeti che li ingannavano ai nemici perché i nemici i seguaci del diavolo la zizzania non meritano la verità la userebbero contro Dio diventiamo come Giuda che seguiamo la legge di dire la verità ma però ingoiamo il cammello che tradiamo Gesù tradiamo il fratello va bene? cioè questo qui è un insegnamento frate un insegnamento non fatevi fregare non fatevi imbrogliare non fatevi condannare dai farisei da quei religiosetti con dieci croci attaccate al collo che si sentono così perfetti perché loro ripetono preghiere mille volte al giorno naturalmente non è che adesso useremo bugie diventeremo bugiari di destra sinistra perché non è che con la scusa che possiamo ingannare il diavolo cominciamo a ingannare Dio come Anania Safira dice che hanno venduto il campo per tot atti capitolo 5 non possiamo ingannare in base alle nostre convenienze noi inganniamo no non puoi ingannare Dio il fratello la tua chiesa la tua famiglia che ti ama non puoi scusa non voglio arrabbiarmi sono arrabbiato contro la bugia contro il peccato non ce l'ho con nessuno no ma è un forte esempio questo di Anania e Safira che hanno cercato di ingannare Dio non si può Dio ti punirà cioè devi camminare rettamente la maggioranza dei casi si dice la verità ci sono eccezioni quando è la vita di un fratello in pericolo che è ingiustamente accusato ma altrimenti si dice la verità sì non devi dire la verità neanche farisei di chiesa perché Saúl era uno che cercava di decidere Davide e Davide non gli dice la verità e faceva parte della chiesa ebraica va bene attenzione perché il diavolo pensa che i cristiani sono fessi troppe volte lo siamo e allora a parte quando il Signore ti mostra di ingannare il diavolo o la sua zizzania o i farisei allora puoi usare parabola come Gesù altrimenti 99,99 990.099 si cammina nella verità come dice anche Giovanni 3 20 e 21 si cammina nella verità nell'amore va bene nel nome di Gesù Cristo Angelina infatti quello che notiamo in tutti questi esempi che hai fatto è che l'unico momento quando questi uomini di Dio hanno ingannato era quando volevano rimanere fedeli a Dio lo scopo è di rimanere fedeli e veritieri a Dio dagli la gloria più gloria a Dio è solo quello il motivo non c'è un altro motivo l'ago della bussola cos'è che dà gloria a Dio dire la verità tutta la verità non è entrato con la verità o ingannare il diavolo ingannare la zizzania se sei davanti un tribunale nazista comunista maoista stalinista o anticristi come questi ce ne sono anche qui in occidente oggi se sei in una situazione così hai il diritto di ingannare il diavolo nella Bibbia questo non viene accettato contro Dio contro i fratelli no però però contro il maligno sì perché il maligno usa solo bugie solo inganni solo farsi accuse e tu usi solo verità e no scusa così per la battaglia in tutta la Bibbia della Genesi e dell'Apocalisse il Signore ha sempre ingannato il diavolo ha sempre arrivato con parabola che il diavolo non capiva Matteo 13 parlo in parabola finché loro vedendo non vedono e non capiscano ma a voi discepoli benedetti voi che capite e comprendete queste cose per voi non sono in parabola Matteo 13 Dio vi benedica un bacio un abbraccio fratelli a me scusate mi sono dilungato Dio vi benedica a me gloria a domani grazie a tutti